Il grande motocross torna sulla pista di Lovolo ad Albettone grazie alla costanza ed edizione del motoclub Albettone nato nel 2012. L'1 e 2 agosto da tutto il nord Italia si sfideranno sul circuito Vicentino 200-230 giovani motociclisti tra gli 8 e i 17 anni nel campionato italiano motocross junior, sfida nazionale che riporta la pista di Lovolo nel grande circuito. 5 le categorie in gara, debuttanti, cadetti, junior, senior e junior 125. Un circuito selettivo da cui usciranno i campioni di domani. Il nostro primo impegno importante, la federazione ci ha dato fiducia, ci crede e è un impegno che porteremo a termine. Abbiamo bisogno di queste strutture, di questi ragazzi per portare in alto di nuovo lo sport a livello nazionale. Abbiamo bisogno di tanti campioni e questa prova dell'1 e 2 agosto è la nostra base di partenza per portare, speriamo, anche i mondiali qui. A Tifari in prima linea è un appassionato di moto, Joe Formaggio, che dieci anni fa, per evitare che la pista venisse trasformata in cava, si era incatenato ai cancelli. Dopo 32 anni finalmente torniamo a fare un campionato italiano di motocross ad Albettone. Però io lo vedo come un punto di partenza. Il giorno che sono nato, ad Albettone c'erano 35.000 spettatori nel campionato mondiale. Io voglio nel giro di qualche anno che queste persone tornino a vedere il mondiale nella mitica, storica pista di Albettone che è tra le più importanti d'Europa. Da venerdì 31 luglio fluiranno i piloti e dopo l'esplettamento delle operazioni preliminari partiranno le prove libere e poi a seguire quelle di qualificazione. Domenica, dopo il warm-up, la gara vera e propria. Per me è stato motivo d'orgoglio portare questa prova importantissima del Albettone dove sicuramente chi verrà a vedere per la prima volta questi ragazzini colori moto avrà delle emozioni incredibili.